Buongiorno amici e amiche, seconda puntata del ciclo di Catechesi dal non senso alla vita di cielo, do il bentornato a chi ha seguito la prima, il benvenuto a chi comincia ad ascoltare da questa seconda puntata. Ricordo brevissimamente il senso di questo nuovo ciclo di Catechesi che è spiegato dal titolo, dal non senso alla vita di cielo, chi ha seguito la diretta, chi sta seguendo la diretta, anzi sta anche sentito il canto all'introduzione di questi primi colloqui, di queste prime conversazioni, che appunto il figlio è il prodigo, la condizione di un uomo che si ritrova per tante situazioni caduto proprio nel punto più basso che si possa cadere e che a un certo punto decide di tornare, di ricominciare a vivere. Come ho accennato questo ciclo di Catechesi è una ripresa, ampliamente aggiornamento di un vecchio ciclo di Catechesi abbastanza datato, che si chiamava Chi sono io per poter amare, alla scoperta di noi stessi e che intendo appunto con questo ciclo riprendere in parte in tutto quello che c'è di tuttora perfettamente spendibile e lo vedremo già da questa sera e però ulteriormente ampliare. Allora nel senso per camminare bene in questo percorso vi dico subito che occorrerà, l'ho già accennato la volta scorsa, lavorarci sopra, non è un itinerario diciamo così meramente passivo, quindi io ascolto, richiede un lavoro su se stessi e quindi spesso capiterà come già nella Catechesi di questa sera che quando questa Catechesi sarà online, quindi sul mio canale YouTube e sui miei canali di distribuzione del podcast, questo sta già dappertutto, quindi sta su Spreaker ed è accessibile anche dal mio sito web dall'area podcast, su Spotify, credo anche su Google Podcast dovrebbe essere già stato approvato e su iTunes Podcast, oltre che chiaramente il video andrà sul canale YouTube. Allora bisogna fare attenzione che quando si seguono queste Catechesi di andare a vedere la descrizione, non in tutti i podcast è immediatamente accessibile, bisogna cliccare su una cosetta che si chiama i, d'accordo, info o qualcosa del genere, perché sotto c'è la descrizione dell'episodio anzitutto, ma metterò anche il link a dei PDF o delle slides, per esempio stasera ci sarà un PDF, che poi si possono prendere e scaricare, appunto primo per riprendere e fissare alcuni punti, punto secondo anche per lavorarci sopra, perché per esempio questo percorso comincia necessariamente da uno screening che noi dobbiamo fare su noi stessi, possiamo farlo come vogliamo, basta leggere, uno si può pensare un po', c'è chi se lo vuole scrivere e poi se lo vuole rivedere dopo qualche anno eccetera eccetera, ma è fondamentale, perché per poter camminare noi dobbiamo focalizzare tre dimensioni fondamentali della nostra vita, che sono il passato, il presente e il futuro. Sul passato noi non ci possiamo fare più niente, giusto? Ma il passato purtroppo può fare molto a noi, anzi il passato a noi ci fa tanto, anzi tantissimo, anzi molto più di quello che pensiamo, il passato è come dire è un fardello che ci portiamo dietro, fino a quando non ci abbiamo fatto i conti, sotto tutti i punti di vista. Il presente, come sto io oggi, cosa sto vivendo, qual è la mia situazione attuale e soprattutto il futuro, dove sto andando, cosa intendo fare da oggi in poi della mia vita? Abbiamo detto io non posso fare niente sul mio passato, ma sul futuro sì, il futuro ancora non mi appartiene, ma io il futuro lo vado costruendo attimo dopo attimo, istante dopo istante. Il passato ci fa del male e noi non possiamo interagire sul passato, potremo e dovremo, e questa è la prima parte di questo percorso, imparare a neutralizzare, e questo ce lo dà il Signore, lo vedremo, tutto il mare di male che ci viene dal passato, questo sì. Ma non dobbiamo rimanerne imprigionati, non dobbiamo guardare indietro come la moglie di Lot che divenne una statua di sale, guardando indietro mentre Sodoma e Gomorra prendevano fuoco, no? Le nostre Sodoma e Gomorra, quindi tutti quanti i marasmi del nostro passato, gli scheretini nell'armadio, le cose che ci pesano, ciò che non avremmo mai voluto fare, ciò che non avremmo mai voluto vivere, è necessario consegnarlo tutto, qui sto già andando molto avanti nelle conclusioni, a Gesù perché lo distrugge, perché l'unica cosa che deve restare del nostro passato è l'esperienza di vita, questo sì, perché la storia è maestra di vita, ma anche la vita è maestra della nostra storia, quindi è fondamentale che noi sappiamo trarre esperienza e conoscenza, quindi sapendo ripercorrere serenamente il nostro passato, quindi senza quel male che certamente a molti di noi ci fa andare a rivedere tante cose, trarne il positivo, noi siamo riconciliati con il passato, vi dico subito una mano avanti, quando possiamo ripensare serenamente a quello che è successo, anche a quello che mi ha fatto ma tanto soffrire, d'accordo? Sia per colpa mia che non per colpa mia, ma tanto, proprio tanto, senza sentirne più dolore. Quando siamo arrivati a questo, quindi lo so che l'ho vissuto, non ne sono ovviamente felice, evidentemente, quindi è chiaro che quando si ripensa dei fatti dolorosi e negativi non è che uno si mette a... però vedremo che il top, come la Chiesa canta nella notte di Natale, è felice colpa, non solo felice colpa mia, ma felice anche colpa degli altri, perché dietro il nostro passato purtroppo, lo vedremo, ci sono anche tante colpe degli altri, tanto male che abbiamo ricevuto e quello che abbiamo ricevuto sta lì, sta a farci male. Ecco, allora, perché questa cosa non sia campata in aria? perché questo è un discorso importante e noi dobbiamo assolutamente camminare bene perché, capiamo subito, questo è un percorso, cioè il sottotitolo di questo itinerario vorrebbe essere un cammino di conversione, guarigione, liberazione, santificazione, ma dovrebbe culminare addirittura nella divinizzazione, perché dal non senso alla vita di cielo vuol dire che si parte dalla condizione del figlio del prodigo e si arriva a vivere l'anticipo del paradiso sulla terra chiaramente questa non è una cosa che si fa di botto o si fa in automatico nel cristianesimo non ci sono magie, non ci sono stregoni, non ci sono guru, non ci sono santoni, non c'è niente c'è un maestro, un signore e un redentore, un medico delle anime e dei corpi, che è il nostro signore e ci sono le terapie da fare qui avremo tanti percorsi terapeutici, d'accordo? certamente tanti percorsi terapeutici, già vi ho detto la volta scorsa quando i transistor sono saltati troppo ci vogliono i terapeuti scientificamente abilitati anche se devo dire che tra i terapeuti scientificamente abilitati più umili io ho sentito dire da qualcuno dice sì io sono bravo a fare una buona diagnosi ma poi a tirarla fuori la persona dai guai mica tanto ecco se funziona nostro signore sarebbe meglio funziona nostro signore, funziona però certamente allora la prima fase è la fase diagnostica e la diagnosi cioè è chiaro che in qualche modo dobbiamo concorrere noi mettendoci sinceramente cioè questo regalo all'oggetto che facciamo a noi stessi cioè non ha senso che ci raccontiamo un sacco di sciocchezze o che ci trinceriamo dietro la tecnica dello struzzo di mettere la testa sotto la sabbia sto anticipando una cosa che vedremo se Dio vuole più avanti lo struzzo è uno dei tanti meccanismi di difesa scogitati dalla nostra volontà umana per non soffrire pensiamo ma non si soffre un pochino per soffrire di più teniamo subito presente una cosa il motivo per cui la stragrande maggioranza degli esseri umani non cambiano mai non percorrono questo cioè percorrere fare un cammino di questo genere io ho detto subito è una cosa meravigliosa ma ci si mette in testa che è una cosa dolorosa in senso buono ma dolorosa nel senso della croce di Gesù quando Gesù ci dice devi prendere la croce ogni giorno e seguirmi non vuole Gesù non vuole che noi stiamo male non vorrebbe darci nessun dolore il problema è questo se vuoi uscire dal grande dolore della vita devi affrontare questi piccoli dolori piccoli sono impegnativi le persone non cambiano perché? perché per non affrontare questi piccoli dolori impegnativi quindi andare a mettere le mani a tirare fuori qualche scheletro nell'armadio che puzza un po' andare a riaprire alcuni armadi alcuni cassetti alcune cose a ripensare a rievocare mi fa male non ci penso però se non ci pensi quella roba resta lì la tua coscienza non ne è come dire addolorata perché hai deciso di non pensarci ma la magma maligna continua ad operare fino a quando non la togli quella cosa da lì capito? pensiamo se facessimo così se ci viene un tumore ah non ci voglio pensare è paura non pensarci fino a quando non arriva che c'è i 4.000 metastasi e dopo grandi sofferenze te ne vai al creatore allora attenzione che le cose dell'anima le cose dello spirito sono simili a quelle del corpo quindi questo dobbiamo averlo chiaro allora io vi invito soffriamo un po' e la sofferenza non finisce mai perché nella vita abbiamo sempre delle cose da aggiustare purtroppo non è che si fa un'operazione un restyling definitivo siamo continuamente in cammino non fa niente va bene d'accordo? quindi l'importante è abbandonarsi ma avere anche questa ferma risoluzione se non lo faccio io questa cosa al posto mio non la può fare nessuno se non mi prendo io cura di queste cose non per curarmene da solo perché non so buono ma per investire poi nelle giuste modalità nostro signore della sua potenza terapeutica queste cose rimarranno e non si può fare questa cosa in termini generici d'accordo? ti consegno signore Gesù il mio passato no non funziona così non va non va lo vedremo quindi questa per carità è una cosa certamente buona non è mica una cosa negativa ma non è sufficiente non è sufficiente allora vi presento questo percorso ci abbiamo tempo dobbiamo avercelo per forza di questo troverete il pdf adesso purtroppo durante la diretta e anche durante i video non ho possibilità perché bisognerebbe fare una montagna insomma di impicci tecnologici oltre a tutti gli altri in ogni caso nel podcast non si potrebbe vedere quindi prendete poi il pdf perché quello che adesso dico chi sente la diretta lo sente diciamo con un'informazione che può apparire anche un po' complessa con il pdf davanti sarà molto molto semplice seguirlo allora questa scheda di lavoro che si chiama proprio gli ho voluto dare il titolo di questo ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo sottotitolo alla scoperta di me stesso e delle mie origini d'accordo noi tutti quanti dobbiamo scrivere il nostro libro della genesi sapete c'è il libro della genesi tanto misterioso ecco che ancora ci sono abbiamo visto noi sono varie possibilità di lettura e di interpretazioni tra l'altro apro una parentesi per grazia di dio mi è arrivato del materiale che se rifacessi adesso la catechesi sul peccato originale sarei in grado di citare una montagna di autorevolissimi fonti patristico orientali occidentali a sostegno di quanto ci siamo detti molto più di quelle che io conoscevo e che ho citato chiusa parentesi quindi probabilmente mi toccherà fare un aggiornamento pure di quella di quella catechesi comunque chiudiamo la parentesi alla scoperta di me stesso delle mie origini quindi del mio libro della genesi il mio ed è diviso in tre parti qual è il mio ieri punto A io sono anche frutto del mio passato qual è il mio oggi oggi io sono il mio presente la mia storia attuale e i progetti per il futuro chiamiamoli così quali sono li ho chiari allora la sezione relativa al mio ieri si distingue in quattro passaggi primo il rapporto con la famiglia sappiamo tutti quanti determinante non so se faremo in tempo questa sera ecco ma qui si aprono tantissimi proprio tantissimi ambiti di 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 fuochi presumibilmente ancora attivi i primi anni della nostra esistenza addirittura quando stiamo nel grembo materno secondo gli studi più evoluti attuali determinano un imprinting profondissimo nella nostra personalità profondissimo molto più di quanto pensiamo e ci segnano a vita io e la mia famiglia primo secondo io e il mio ambiente non c'è solo la famiglia c'è l'ambiente la famiglia allargata per esempio la parentela ma poi fin da quando siamo piccini c'è il mondo della scuola quello che abbiamo vissuto a scuola i primi rapporti con i compagnucci e compagnucci compagnucci sono tanti problemi anche che vengono da qui mano a mano che si cresce poi i rapporti con gli amici tra virgolette amici perché quasi sempre sono compagni non amici le prime esperienze come dire d'amore quando si incontra l'amore quindi le prime esperienze le prime avventure o anche le prime storie impegnative anche lì possono essere successe in Italia di ogni dicono così le sono successe di ogni poi il mio rapporto con Dio non solo quello che ho adesso ma quello che ho avuto cosa mi hanno trasmesso di Dio niente in famiglia a catechismo nella parrocchia che tipo di immagine ho respirato di Dio e che tipo di rapporto quindi ho instaurato se l'ho instaurato con Dio poi nel passato c'è anche un'altra cosa quindi c'è quello che mi è successo famiglia ambiente rapporto con Dio no e poi c'è stato c'è stato me stesso c'è stato il mio passato c'è quello che ho combinato io non solo quello che ho vissuto ma quello che ho fatto ah qui altri macigni che possono pesare d'accordo possono pesare una tonnellata e qui vi invito a ricordare bene una catechesi che ho fatto in un altro ciclo parallelo perché adesso quest'anno è l'anno degli aggiornamenti nell'altro ciclo di catechesi che è un po' parallelo a questo anche se sta già un pochino più avanti che è la sana dottrina cattolica che aggiorna i dieci comandamenti e i sette sacramenti parlando del sacramento della penitenza soprattutto degli incontri preparatori ho cercato di far capire bene attenzione perché per non rischiare di disperarci quindi e di essere come dire travolti da sensi di colpa spaventosi quando si fanno i conti col passato da un punto di vista morale cioè di quello che ho fatto bisogna sempre fare attenzione di distinguere bene che possa aver fatto anche delle cose orribili anche gravissime ma senza aver peccato mortalmente questa è una cosa che mettiamocela bene in testa è certo che quel male che ho fatto comunque bene non è male a prodotto però non possiamo giudicare nemmeno noi stessi e così attenzione nel prendere coscienza nel ritornare la famiglia agli ambienti nessuno cominci a questo è subito come dire travisare e distorcere questa cosa buona no? non si rientra non si fa questo tipo di percorso per caricarsi contro i genitori e metterli in croce e accusarli di essere la causa della nostra rovina no ecco perché i poveri nostri genitori questo ce lo diciamo subito mettiamo subito le mani avanti erano poveri uomini come noi erano o sono perché c'era ancora vivi quindi erano poveri uomini e povere donne come noi non erano il padre eterno in terra quindi avevano a loro volta tutto quello che noi scopriremo di noi stessi ce l'avevano anche loro e forse anche di più e non ce l'hanno mai detto forse non se lo sono manco mai detti a loro stessi e quindi cioè magari anche il male che ci potrebbero aver fatto anche quello che dice no ma un genitore non dovrebbe mai fare una cosa del genere buono tranquillo sì da un punto di vista oggettivo forse questo potrebbe essere vero ma non ti metti a giudicare meno che mai non lo possiamo giudicare nessuno nemmeno noi stessi quindi non si tratta di andare a caricarsi contro qualcuno si tratta però di prendere coscienza che povero papà povera mamma chi lo sa che si portava dietro pure lui non si rende conto magari se non è nato un paradiso non è manco consapevole però purtroppo questa situazione a me ha fatto tanto male e ci devo far pace questo è il senso mi raccomando altrimenti io guardate quello che ho imparato quello che vedo in continuazione quello che l'esperienza mi insegna è una cosa proprio brutta la dico ad ammunizione mia e di tutti che purtroppo la nostra volontà umana ha il potere certamente tentata dal nemico della nostra salvezza che ci sguazza su queste cose di trasformare anche le cose buone in negative un esempio ecco faccio sta cosa mi mi rivengono in mente delle ferite che ho ricevuto dai miei genitori ecco mi mi avveleno mi carico e comincio a odiarli ecco è meglio non farlo per niente se deve fare così ricomincio a pensare al mio passato a quello che ho fatto prendo coscienza e dico mamma mia che succede mi dispero oppure mi vengono faccio 450.000 la confessione generale alla 450.000 ancora penso che ho altre cose da confessare non può essere capito però mettiamo subito le mani avanti perché cioè purtroppo noi abbiamo sta croce questa è una croce questo dipende dalla nostra proprio imperfezione che fino a quando non diventeremo se ci diventeremo dei grandi santi noi dobbiamo metterla in conto perché è strutturale cioè la nostra natura è decaduta è così che ho capito quindi attenzione quindi tutte le cose di tutte le cose ne sia fatto sempre un uso buono perché non basta che la cosa sia buona deve esserne fatto anche un uso buono deve essere presa bene è lo stesso discorso che non basta fare il bene bisogna farlo bene il fine non giustifica i mezzi io non posso in nome di una cosa buona usare mezzi cattivi questo principio deve essere chiarissimo questo principio oggi se uno si guarda intorno è tutt'altro che chiaro in tante coscienze la stessa cosa vale qui io prendo un'informazione importante ma che deve servire per la vita non deve servire per far venire la depressione per far venire l'angoscia perché altrimenti abbiamo già distorto completamente quindi avvelenato quindi trasformato in una fonte come dire di sofferenza negativa una cosa che il Signore ti dona per aiutarti a tornare a vivere non a deprimerti o a sta peggio deprimere scusate ok quindi la prima parte è distinta in questo modo la seconda parte qual è il mio oggi poi entriamo un pochino dentro intanto ci abbiamo tempo oggi dobbiamo fare solo questo distinta in due punti come e cosa sto vivendo in questo momento della mia vita no tre punti come vivo nelle relazioni con gli altri oggi io sono anche ciò in cui credo infine il senso della vita qual è il senso profondo della mia vita lo so dire oggi che campo ha si dice in parlare comune le mie aspirazioni dentro il senso della vita che desideri con tutto te stesso quali sono i tuoi desideri profondi il cui bisogna dirsi la verità voglio fare un sacco di soldi ma proprio come il fondatore di Amazon se è questo te lo devi dire quando si fa questo screening all'inizio la condizione assoluta è che bisogna essere sinceri con se stessi non le deve sapere nessuno queste cose non occorre che le sappia nessuno le devi sapere tu le devi sapere il diretto interessato e siccome il nostro signore già le sa molto meglio di te d'accordo il nostro signore risponderebbe benissimo a queste domande ma tu le devi sapere per farne il progetto di preghiera e di colloquio con lui però il colloquio deve essere fatto nella verità Gesù è la verità Gesù ti aiuterà a entrare dentro te stesso e infine il progetto di vita adesso entriamo in ciascuno di questi tre ambiti qual è il mio ieri quindi famiglia ambiente Dio io ciò che ho fatto allora per quanto riguarda il rapporto tra la famiglia con la famiglia e l'ambiente ci sono due livelli di analisi primo che cosa ho ricevuto e secondo che cosa ho dato a tre a quattro livelli a livello emotivo affettivo a livello cognitivo intellettuale pensieri a livello fisico e a livello relazionale sia per la famiglia sia per l'ambiente cosa ho ricevuto e cosa ho dato a questi quattro livelli leggo così è più chiaro io e la mia famiglia cosa ho ricevuto cioè come sono stato nutrito che cosa mi è stato dato nella mia famiglia dai miei genitori sono stato amato odiato svalutato sostenuto riconosciuto apprezzato rimproverato incoraggiato premiato bastonato eccetera poi focalizzazione nutrimento affettivo quali sono state le emozioni i tipi di affetto che giravano nella mia famiglia affetto caldo aperto freddo rigido frettoloso riservato impercettibile quali sono i riconoscimenti positivi che ho ricevuto nella mia vita a partire dai miei genitori qui non si può mettere tutto cioè queste queste suggestioni sono indicative e non sono esaustive se c'è altro esplicita il tuo altro nutrimento cognitivo quali sono stati gli stimoli intellettivi che funzionavano in famiglia si era bravi quando bisognava sapere a livello di una persona che nasce in una famiglia dove per esempio sono tutti dottori i genitori o magari è il quinto o il sesto figlio e c'ha tre fratelli che sono tutti quanti laureati più grandi è chiaro che quello sta sotto pressione perché non è che può cioè sono tutti quanti laureati cioè lì il tipo di sapere che è tacitamente richiesto è la laurea e se tu non c'è voglia di studiare o non sei tutta tanta sta grande cima immagina questo quello che provoca dentro nutrimento fisico uno degli aspetti più delicati ma anche più importanti quali sono stati i contatti fisici che legavano i componenti della mia famiglia impercettibili eccessivi carenti abbondanti c'erano le coccole c'erano i gesti di amore oppure sono vissuto in un clima di violenza violenza verbale violenza psichica violenza morale violenza fisica Dio non voglia purtroppo queste cose succedono violenza sessuale nutrimento relazionale che tipi di relazioni sussistevano nella mia famiglia accoglienza comunicazione distanza calore freddezza estraneità cosa queste cose dobbiamo dircele e poi che cosa ho dato cioè come mi sono sentito io nelle relazioni familiari che cosa ho dato io alla mia famiglia come stavo in famiglia allora che sentimenti e che emozioni avevo amore affetto odio rabbia vicinanza lontananza chiusura apertura cosa altro invidia gelosia del fratello della sorella le emozioni qui fuori tutto i pensieri facevo presenti parlavo dentro casa le mie idee le mie paure le mie sensazioni i miei pensieri li manifestavo li potevo manifestare c'era qualcuno che mi stava ad ascoltare il contatto fisico cercavo cercavo il contatto fisico temevo il contatto fisico desideravo ma non lo chiedevo lo accettavo ma non lo volevo subivo il contatto fisico lo sopportavo mi è mancato mi è mancato relazione vivevo una relazionalità improntata a chiusura apertura timore imbarazzo timidezza altro e poi c'è la domanda delle domande ho individuato quali sono le principali ferite che mi porto dietro questo conclude il tema della famiglia perché lì lì c'era di tutto e di più qui c'è di tutto e di più che ferite ti porti dietro dall'ambiente familiare poi l'ambiente cosa come sono stato notito cosa mi è stato dato al di fuori della mia famiglia prima cosa ho ricevuto sempre nei vari ambienti che ho vissuto scuola amici relazioni sentimentali gruppi parrocchiali cioè in tutte quelle situazioni relazioni della mia vita che mi hanno ruotato attorno soprattutto a partire da una certa età in poi diciamo dalla scuola materna dalla scuola dell'infanzia oggi si chiama così credo in poi anche qui movimento affettivo cognitivo fisico e relazionale alcune suggestioni quali sono state le emozioni tipi di affetto che giravano a scuola nelle mie relazioni sentimentali con gli amici in parrocchia affetto timidezza arroganza difficoltà quali sono i riconoscimenti positivi che ho ricevuto nelle mie relazioni al di fuori della famiglia e se sono state negative ecco qui no accettazione non accettazione venivo preso in giro venivo considerato l'ultima rota del carro un po' il soggetto della situazione oppure no oppure ero un leader ero il bulletto del quartiere cioè qui si può stare di di tutto quindi ripeto queste sono soltanto suggestioni poi chi fa questo lavoro lo deve completare lo deve no quali stimoli intellettuali ho ricevuto soprattutto a scuola nutrimento cognitivo ritengo soddisfacente il grado culturale dei miei rapporti quindi con gli amici nelle relazioni affettive mi sentivo diciamo così a mio agio diciamo da un punto di vista della qualità culturale di questi tipi di relazioni nutrimento fisico quarto punto terzo punto scusate quali sono stati i contatti fisici che ho vissuto con i miei amici assenti presenti ma problematici violenti e nelle relazioni con l'altro sesso come mi sono rapportato che tipi di contatto fisico ho avuto ho avuto relazioni sessuali di che tipo come mi sono sentito punto interrogativo capite che qui c'è un'altra area poi le relazioni come giudico le relazioni di amicizia e sentimentali che ho vissuto la grande domanda tu ce l'hai mai avuto un amico vero o un'amica vera non si deve rispondere subito di sì perché è difficile trovare un amico vero o un'amica vera mi sono sentito accolto mi sono sentito incompreso perché in che senso e poi che cosa ho dato io all'ambiente quindi amici relazioni sentimentali parrocchia scuola lavoro quindi che emozioni vivevo anche qui rabbia amore affetto odio chiusura lontananza vicinanza desideri frustrati desideri realizzati ferite subite umiliazioni questo è umiliazioni mortificazioni poi i pensieri riuscivo a far presenti le mie idee le mie paure le mie sensazioni i miei pensieri i miei partner amici colleghi li manifesto li ho manifestati anche adesso ho paura di farli che cosa nelle relazioni sentimentali cercavo il contatto fisico lo temevo lo desideravo ma non lo chiedevo lo subivo o sopportavo senza però volerlo cosa penso della sessualità e della castità e come l'ho vissuta l'una e l'altra ho subito violenze fisiche morali o sessuali anche da amici o anche qua Dio non voglia Dio non voglia purtroppo da persone di chiesa anche in senso ampio e non necessariamente quindi anche da gente che frequenta la chiesa anche da laici non necessariamente le cose tristi che sappiamo purtroppo essere sporadicamente ma purtroppo accadute anche negli ultimi anni relazione vivevo e vivo una relazionalità improntata a chiusura spiapertura timore imbarazzo timidezza eri timido eri estroverso eri aperto eri chiuso come stavi con gli altri a tuo agio a disagio o è fondamentale per fare bene questo lavoro tenere distinti i rapporti di amicizia quelli sentimentali e quelli professionali di lavoro e se ci sono stati quelli in parrocchia sono quattro ambiti distinti di analisi e veniamo al rapporto con Dio grande domanda che cosa ho ricevuto da Dio tu saresti capace adesso come facevano gli israeliti di prendere il capitolo 26 del Deuteronomio e di fare il tuo piccolo credo mio padre era un arameo errante e scendemmi in Egitto e il Signore ci liberò fuori da lì con braccio potente e mano tesa questo non come una storiella imparata a memoria tu sapresti raccontare oggi quali opere Dio ha compiuto nella tua vita che cosa hai ricevuto da Dio sei capace di dirlo che cosa ti ha dato Dio se ne sei cosciente sei capace di dirlo e tu che cosa hai dato a Dio cosa hai dato a Dio gli hai dato tempo gli hai dato spazio gli hai dato retta gli hai dato ascolto gli hai dato amore gli hai dato adorazione o no ancora come e quanto mi sento amato da Dio qui verità mi raccomando verità perché può darsi spero che non sia vero ma è possibile la mia esperienza di parroco me lo insegna è possibilissimo che Dio sia fondamentalmente un estraneo è vero che in questo mondo Dio rimane sempre più sconosciuto che conosciuto come tutti i santi hanno insegnato ma almeno un minimo si però lo vivi questo amore lo riesci a trasmettere questo amore se pensi di aver avuto esperienza dell'amore di Dio se hai avuto esperienza dell'amore di Dio sei in grado di dire in che modo l'amore di Dio ha trasformato la tua vita ancora chi è Dio per te chi è Gesù per te qual è il tuo rapporto con Gesù ce l'hai qual è il tuo rapporto con la preghiera hai idea di che cosa sia per esempio io l'ho chiamata la preghiera profonda cioè la preghiera preghiera non semplicemente il recitare le preghiere oppure presentarsi dinanzi al Signore con la lista delle richieste no tu lo sai che cos'è la preghiera profonda ancora quarto punto ce la facciamo sì io è ciò che ho fatto e qui i conti con il nostro passato in quanto dipendente dalle nostre azioni quali sono le cose che ho fatto e che mai avrei voluto fare queste sono cose molto importanti figlioni cari mi raccomando quali sono i rimorsi di coscienza che mi porto dietro i rimorsi di coscienza le cose che non mi sono perdonato non di quelle che mi hanno fatte ma di quelle che ho fatto ho dei rimpianti quali sono come vivo il sacramento della confessione perché il nostro passato in quanto cose che abbiamo fatto lo portiamo a Gesù attraverso la confessione so fare bene l'esame di coscienza mi confesso spesso mi confesso bene ho trovato un confessore di mia fiducia da cui mi confesso in maniera ordinaria ne comprendo l'importanza è importante se Dio te lo concede avere un confessore ho mai fatto una confessione generale di tutti i peccati della mia vita so che cos'è questa confessione generale credo veramente che il peccato cioè il male che ho fatto produce impercettibilmente ma realmente male e dolore in me e intorno a me sotto tutti i punti di vista ma soprattutto psichico morale e spirituale ci credo a questa cosa cioè dietro tutto quanto questo itinerario le ferite ricevute da cosa ti vengono dai peccati degli altri oppure dai peccati tuoi tutto qui è poi qual è il mio oggi allora come cosa sto vivendo in questo momento come vivo nelle relazioni con gli altri e oggi sono anche ciò in cui credo i tre punti diamoli a vedere come e cosa sto vivendo in questo momento della mia vita allora anzitutto ho individuato il mio temperamento avremo più avanti una conversazione per chi non li conosce che riguarda i temperamenti però il linea di massima che cosa sai dire tu di te stesso poi vedremo che cos'è il temperamento che temperamento hai così anche se non hai sentito le mie antiche catechesi che ho già fatte insomma sui quattro temperamenti qual è oh attenzione sono capace di scrivere o di dire in modo realistico attenzione quindi la capacità di guardarsi in maniera oggettiva di te stesso sette pregi sette difetti e sette potenzialità non ancora attivate ancora quanto è grande a tuo parere allo stato attuale attenzione questo sarà un altro argomento di conversazione l'area del tuo io cieco o inconscio cioè in percentuale quanto non ti conosci lo vedremo c'è la finestra di Ioario il grafico di Ericsson però lo vedremo a suo tempo anche di questo ci sarà poi un contributo cartaceo della quadripartizione dell'io e bisogna vedere quanto sono grandi le zone buie ancora dentro noi stessi quanto non sappiamo di noi come e quanto mi faccio in questo aiutare dagli altri ascolto gli altri come reagisco dinanzi ai rimproveri anche se alle offese alle mortificazioni alle correzioni ancora qual è oggi il mio stato interiore la verità come stai sei felice sei nella pace sei nella gioia sei nell'ansia sei nell'angoscia sei nella disperazione lo possiamo anche attualizzare adesso come sta vivendo la pandemia altro punto importante mi sento prevalentemente realizzato oppure frustrato ti senti al tuo posto ancora oppure in uno stato di provvisorietà di disorientamento di inquietudine ti senti prevalentemente felice o infelice che cosa ti sta mancando in questo momento della tua vita tutte domande che troverete scritte di cosa hai realmente bisogno ancora in questo momento della tua vita stai facendo qualcosa che ha senso per te qualcosa di importante che cosa e di cosa è fatto questo senso ancora dove stai andando che campi e fai il pre quello questo qual è la tua meta hai chiarezza rispetto a quello che vuoi quello che cerchi che vuoi tu dalla vita che cerchi ancora qual è il posto che ha Dio nella tua vita uno che importanza dai alla preghiera due che importanza dai ai sacramenti tre che importanza dai alla tua formazione cristiana quattro come puoi qualificare il tuo rapporto con Dio e quinto desideri crescere ulteriormente nella conoscenza di lui e del suo amore e crescere nel rapporto con lui oppure non ti interessa secondo ambito dell'oggi come vivo nelle relazioni con gli altri ho individuato a quale territorio appartengo ci sono i temperamenti e poi ci sono i territori cioè il tipo di relazionalità che noi impostiamo con il prossimo anche su questo ci sarà una conversazione in linea di massima nelle relazioni con gli altri primo approccio sei tu al centro quindi tutti rispondono di no ma nell'80% dei casi è sì oppure ti escludi dalle relazioni preferisci evitare di stare in relazione col prossimo sei diffidente non dai fiducia a nessuno sei uno di quelli che crede che per farcela deve contare solo sulle sue forze suggestioni terzo punto la scala dei valori perché una parte importantissima nella nostra esistenza hanno le cose in cui noi crediamo allora qual è il tuo attuale sistema di valori ti metti seduto e ci comincia a pensare le sette cose i sette valori più importanti della mia vita in ordine gerarchico d'accordo una volta c'era dio patria famiglia non voglio fare tanto per dire qualcosa no dio patria famiglia lavoro amicizia hobby non voglio condizionare no e cinema per dire insomma qual è il tuo attuale sistema di valori perché in base ai valori in base alle priorità noi organizziamo la nostra esistenza questo serve semplicemente a farti prenderne coscienza ma tutti facciamo queste cose a livello inconscio tutti ce l'abbiamo conscio inconscio ancora che senso e valore hanno gli altri nella tua vita prova a precisarlo hai un senso positivo della vita del mondo delle cose o hai un senso negativo del mondo della vita delle cose in che cosa profondamente credi sei capace di precisare almeno tre meglio se cinque realtà principale in cui puoi dire di credere e attenzione se tu credi in qualcosa qui ci sono delle spie ci sono sei indici di verifica dici io ci credo in questa cosa bene ci spendi del tempo ci spendi del denaro denaro ci spendi interesse ci spendi energie ci spendi sudore ci spendi gusto facciamo subito un pochino di esempi no qui li facciamo ci spendi tempo cosa faccio il giovedì che c'ho un'ora libera vado all'adorazione d'accordo o vado al cinema che è una cosa che si può fare d'accordo è chiaro che se la realtà profonda che a me sta più a cuore è a Dio è chiaro che io vado all'adorazione perché perché il mio tempo lo impiego lì denaro facciamo sempre lo stesso esempio tra il sacro e il profano l'estate c'è la possibilità o me ne vado in pellegrinaggio in terra santa o me ne vado in vacanza al mare tutte e due non si possono fare perché tutti i soldi non ce l'ho dove vado capite no quindi se dico non ci penso nemmeno io vado in terra santa il mare non fa niente quando dirò per me Dio è una priorità beh insomma comincia ad essere un discorso fondato non infondato energie sudore cioè se una cosa io ce tengo la faccio capite quando 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 le persone dicono ah io non c'ho tempo per la chiesa per la messa eccetera eccetera no non è che non c'hai tempo tu non c'hai voglia perché parlate con qualunque essere umano se uno c'ha un hobby un interesse una passione no qualunque essa sia uno sport un hobby cioè fai salti mortali per poter trovare il tempo per soddisfare quella quella cosa che gli piace salti mortali allora se tu non fai salti mortali per il signore è segno che del signore non te ne importa quindi dillo a te stesso non dire non c'ho tempo di non c'ho voglia perché il tempo si trova il tempo si trova non è vero che non c'è tempo ok e veniamo all'ultima abbiamo finito ecco senso della vita aspirazione progetto di vita numero uno qual è il senso profondo della tua vita te lo sei mai chiesto il senso profondo qual è il senso per cui il senso della vita che senso c'ha che ci stiamo a fare noi sul pianeta terra e che succede dopo dopo la morte che facciamo so rispondere a questa domanda fondamentalistima qual è il motivo per cui lo scopo della mia esistenza cosa campo a fa Gesù dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima cioè noi dobbiamo essere capaci di cioè i cristiani non sono stupidi voi sapete che i grandi capitalisti i grandi sistemi macroeconomici fanno gli investimenti a lungo periodo non fanno le cose cioè come fa uno a diventare un colosso nel campo dell'economia deve ragionare non sull'oggi ma sul lungo periodo ponendosi un obiettivo ben preciso e una strategia per raggiungere quell'obiettivo allora qual è il grande obiettivo della tua vita dov'è che devi fare centro e dov'è che se tu non fa cioè qual è il pericolo grande il fallimento con la F maiuscola il fallimento dell'obiettivo secondo punto le aspirazioni quali sono le aspirazioni fondanti della mia vita cosa desideri realmente dalla vita ditelo perché i desideri sono il motore di tutte le nostre scelte questo ci sono arrivati anche i filosofi pagani e infine il progetto di vita quali sono i progetti miei qui è chiaro la risposta un ragazzino un adolescente un giovanotto una persona che sta ancora in ricerca vocazionale oppure io sono già prete una persona già sposata è già frate è già suora oppure vive nel mondo avendo fatto comunque la scelta di rimanere senza matrimonio anche offrendo la propria vita al signore in privato o anche tutto quello che uno vuole quindi anche se ho trovato già come dire lo stato di vita che progetto di vita ho cioè che prete voglio essere io mi devo dire che famiglia vuoi fare tu su che orizzonti che vuoi fare che volete fare perché queste cose vanno in due quando uno è sposato della vostra famiglia come vuoi spendere la tua vita non è la famiglia non hai come dire vincoli dell'obbedienza gerarchica come un prete oppure del convento del monastero come frati suori monaci e monache quindi hai tanto tempo a disposizione bene che ci fai con tutto sto tempo come lo impieghi quindi qual è il tuo progetto quale cosa vuoi realizzare che posto ha la presenza di un progetto di Dio nella tua vita tu ci credi sul serio che lui ha un progetto su di te ti ci confronti sinceramente oppure tu hai già deciso che il suo progetto è il tuo progetto quindi e o lui si adegua oppure non facciamo come i bambini non ci gioco più con te prendo il pallone e me ne vado d'accordo ho compreso quale deve essere il mio stato di vita per chi ancora non ha una vocazione definita no quindi famiglia vocazione laicale quindi senza famiglia vita consacrata se di sesso maschile sacerdote perché vita consacrata è per tutti no poi con tutti quanti i rami che hanno molto diversa la vita religiosa dalla vita laicale sono due cose completamente differenti ancora in caso di risposta negativa no non ho capito niente del suo progetto bene cosa stai facendo per capirlo meglio perché se Dio ce l'ha sicuramente te lo vorrà fare conoscere e se tu ancora non lo conosci è perché non ti sei sintonizzato bene sulle sue frequenze o non sei capace di ascoltare la sua voce non sei capace di ascoltare il tuo cuore qualche problema sicuramente ci sta perché Dio non si è sbagliato a creare nessuno nessuno di noi sta qui per caso nessuno assolutamente allora in caso di risposta negativa non so il progetto cosa faccio per capirlo bene mi interessa veramente in caso di risposta positiva sì ci credo ho compreso il mio progetto di vita come lo stai custodendo come lo stai vivendo o se stai in cammino sei fidanzato in vista del matrimonio sei seminarista in vista del sacerdozio sei un novizio sei un professo semplice come ti stai preparando alla grande missione che il Signore ti dà bene con questo ci mettiamo a punto vi ricordo che questo pdf sarà allegato andate a vedere la descrizione sia del video su youtube sotto troverete pdf per un link ci cliccate vi esce immediatamente questo pdf lo potete studiare online oppure lo scaricate lo stampate fate tutto quello che volete chi gli interessa chi non gli interessa si è sentita questa questa conversazione ma questa chiaramente è finalizzata a provocare questo tipo di lavoro su di noi perché per partire in questo cammino da qui bisogna partire per forza se si vuole camminare bisogna focalizzare bene la nostra situazione di partenza passato presente e futuro a chi avrà voglia e pensa che sia una cosa buona che si vuole fare questo regalo buon lavoro mi raccomando la descrizione su youtube oppure nei podcast state attenti perché certe piattaforme per esempio spreaker che è la mia principale se tu vedi l'episodio vedi soltanto il titolo per vedere la descrizione c'è una spunta vicino ci sono dei repuntini di andare sopra e compare la scritta info o qualcosa del genere aprite quella cosa se no non trovate il pdf se non trovate il pdf non potete lavorarci è tutto quello che ci siamo detti insomma uno fa la trascrizione ma mi sembra insomma un lavoraccio assurdo oppure serve a poco di nuovo Dio vi benedica e la Madonna vi protegga sia sempre tutto a gloria di Dio ci vediamo se Dio vuole venerdì prossimo per chi segue la diretta per una nuova puntata di questo ciclo dal non senso alla vita di cielo a presto